Grazie a tutti. Iniziamo con un momento moda che ci porta negli anni cinquanta, grazie all'Accademia della Moda di Cosenza, grazie a tre giovani stilisti che hanno preparato questo momento dedicato alla moda anni cinquanta. Loro sono Iori Ognici, Jessica, Mauro Paolo e Stefania Converso. Allora iniziamo con la moda dedicata agli anni cinquanta. Divertiamoci insieme, voi! Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fanno il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole, venirmi contro insieme, insieme a te. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fanno il twist. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille, mille lucciole. Saranno gli occhi tuoi che brillano, ma vedo mille, mille lucciole, che brillano, che brillano, ma vedo mille lucciare. Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il twist, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo fanno il twist. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amor. Guarda come tondolo, guarda come tondolo con il tris, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, parlo il tris. Guarda come tondolo, guarda come tondolo con il tris, con le gambe ad angolo, con le gambe ad angolo, parlo il tris. Le ginocchia scendono, le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amor. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, that I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space, I just walked in to find you here with that bad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door, just turn around now, cause you're not welcome anymore. Was you the one who tried to crush me with goodbye? You think I'd crumble, you think I'd lay down and die. Oh no, I, I will survive, oh as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive, I will survive, I will survive. You think I'd crumble, I'll survive, I'll survive, I'll survive, I'll survive, I'll survive. Ho firmato questo momento, allora dedichiamo a loro un applauso a questo punto. Complimenti, eh? Passa avanti, ragazzi, eh? Allora, Accademia della Moda di Cosenza. Io sono contento perché vedo tre giovani pieni di entusiasmo, non avano chiacchierare, non hanno trovato, non vogliamo parlare, eccetera. Comunque ragazzi, io vi faccio tantissimi auguri, grazie per aver aderito a questa serata. E per voi c'è una testimonianza di affetto, adesso dovrebbe arrivare la nostra valletta che porta un attestato per voi, è un ricordo per questa serata. Quindi grazie a Jessica, grazie a Paolo e grazie a Stefania. Vogliamo consegnare? Prego. Stefania, eccola. Stefania. Paolo. E a Jessica. Consegniamo anche attestato. Vogliamo consegnare? Ecco. Facciamo vedere? Così chi è a casa può anche spirciare. Allora, settimo in passerella, terza edizione. Si ringrazia l'Accademia della Moda di Cosenza per aver partecipato con grande disponibilità, contribuendo con professionalità nella creazione degli abiti realizzati dai suoi stilisti. Montalto Fugo, 30 giugno 2012. Grazie ragazzi. Ecco, arrivano anche i fiori perché per la serie non ci facciamo mancare nulla, arrivano i fiori e quindi grazie doppiamente anche all'organizzazione per aver curato anche nei dettagli tutto, veramente tutto. Grazie. Grazie, ciao, ciao, grazie a tutti. Ciao, ciao. Bene. E dicevo un'apertura di serata, lo dicevo anche per chi ci segue da casa, è un momento, una serata importante, dicevo un settimo in passerella, settimo appunto la località dove ci troviamo, che fa parte del comune di Montalto Fugo. Questo lo spieghiamo per chi ci segue da altre città della Calabria e anche fuori regione Calabria grazie alla regia guidata da Marcello Vocaduro, Romina Calabrese e tutti i nostri tecnici che stanno lavorando, che ci portano nelle vostre case. Dicevo una serata importante perché abbiamo tanti ospiti importanti. Dicevo una serata importante perché abbiamo tanti ospiti importanti.